Ciao a tutti, sono Elena Rossi, sono la founder di Vanity Space, blog che tratta Cosmesico Bio. Ciao a tutti, sono Valentina Romani del beauty blog The Life for Baby. Quest'anno, al trentesimo anniversario del sano, ho visto davvero tantissimi prodotti innovativi per quanto riguarda la cura del viso, ma quelli che mi sono piaciuti di più sono gli anti-age, perché quest'anno c'è davvero una cura, un'innovazione spettacolare per quanto riguarda la cura del viso, quindi lì c'è davvero delle bellissime novità. Quest'anno ho visitato l'esposizione per questo trentennale di Sana e sono rimasta piacevolmente colpita dal fatto che molte aziende abbiano deciso di proporre dei prodotti con ingredienti che vanno a valorizzare il territorio, quindi ingredienti a sostegno della biodiversità. Allora Valentina, stasera cosa facciamo? Allora stasera andiamo a farci un bel aperitivo sulle Due Torri, poi scendiamo e andiamo in centro a visitare Sana City. Perfetto!